Una volta è uscito anche in edicola la raccolta dei santi, io volevo comprare, però poi non ho trovate. E' uscito pure commercialisti in miniatura, eh. Io la facevo quella là, quella la facevo così. C'hai tutti? Sì, c'ho tutti, tutti i commercialisti di Roma erano, quindi... Era lunga. Ma tutti rifatti benissimo. C'era pure il mio, c'era, era così, ma fatti benissimo. Che uno quella la inizia a fare aspettando che arriva il tuo, dicevo ecco, è arrivato, è arrivato, il signor Carlo. Poi gli altri non li conoscono. Con Greg avevamo pure ipotizzato, avevamo fatto una proposta a una casa editrice, che secondo me era una bella idea di fare la piscina uno a uno a fascicoli. Cioè, che usciva tipo una mattonella. Quindi sono un milione delle mattonelle, no, per fare una piscina, no? Quindi fa un milione dei numeri, comunque. Bellissimo. Con la millesima uscita un bicchiere d'acqua col cloro. E poi... E avanti così. Grazie. Grazie.